Tre generazioni, voi siete la terza, ma non lo parite tanto questi anni. Mi siete inventati in gelata da mafra, ma è facile fare in gelata da mafra. Quotidianamente davanti alla vostra vetrina passano 15.000 persone. Vero, passano e poi ritornano indietro per venire a gustare il gelato da mafra. E come mai? È perché ci preferiscono perché vuole. Se il biglietta non date al ritorno. Ah, ecco qua. Ecco qua, un gelatino d'assaggio in cui ci dite gli ingredienti. Allora, cosa abbiamo servito? Il croccantino che serve una base di nocciola variegato con un croccante fatto da noi. Torrone originale. E' cioccolato potente utilizzato dal cioccolato della Venchi. Cioccolato al 56% di più cacao. Venchi? Come si fa a mantenere la qualità in questo rapporto di quantità? Cioè 15.000 persone al giorno. Come si fa a mantenere la qualità? Essere sempre uguali. Eh, avete dietro al laboratorio tanti e tanti macchinari. Grazie, buonasera. Grazie.